bene abbiamo iniziato questa sessione per stefania benvenuti a tutti e ciao a tutti allora ti conto conto come sempre da 5 a 1 e ti connetti a stefania 5 4 3 2 o Dimmi se la vedi Sì la vedo Mi viene incontro Saltellando con un grosso mantello Che svolazza con le braccia E sotto questo mantello Tiene come se Per proteggersi e prendersi cura Sua mamma, suo fratello e suo papà Ok, ti dà l'autorizzazione Sì, sì, assolutamente sì Causa esoterica della sua assordità Vediamola subito Allora, è un contratto Che suo papà ha fatto nel suo cluster Di suo papà Proprio È come se fosse stato interferito In quell'anno Nel 92 Quando è capitato Di accorgersi Di essere sorda Ha fatto questo contratto Che riguardava appunto Tutti i suoi familiari Tutti quelli che vivevano con lui È come se avesse fatto una promessa Di scambio energetico Ok Stefania Poi il sistema Non ti preoccupare Stefania Ok Stefania ha fatto un contratto Perché nessuno Con il contratto Per qualcun altro Sì, certo L'hanno accettato tutti e tre Quindi Stefania La mamma di Stefania E il fratello Hanno anche loro accettato Questo Contatto È stato proposto a tutti E lei l'ha accettato Sono tutti e quattro Dello stesso cluster Quindi Sì Con chi l'hanno strattito Allora Sopravedo È un po' umanoide Però le ali Tipo da Aquila È come se fosse Come se ci fosse Un trespolo circolare E lui è sopra il trespolo E apre le sue ali Come per dire Voi siete qua dentro A quello che abbiamo deciso di fare A cui voi avete detto di sì E qui dovete rimanere Come si chiama Questo qua Si chiama Dartu È un falconiforme umanoide Sì Esattamente O solo falconiforme No no È anche umanoide Ha il viso umano E poi ha tipo le braccia Con sopra le ali Però le gambe Sono da uccello Tipo le zampe Ok Quando è stato stabilito Questo contratto Tra Stefania e Dartu È stato stabilito Nel 92 Nel 1992 Ok E cosa Cosa riporta In una o due frasi Cosa comporta Io garantisco Che le persone Che ti girano intorno Ti vogliano bene Questo mi esce Però tu mi dai Posso usare Le tue orecchie Tramite un impianto Per sperimentare La presa di energia Di anima E così è C'è un impianto Nelle orecchie Viste Fatte due le parti Ok Vediamo tutti gli impianti Ok Ne ha uno sopra Tipo dove c'era La fontanera Dei bimbi Quei due Nelle orecchie Uno a livello Dell'utero E poi Sui dorsi Dei piedi Ok Quello A livello Dell'utero Cosa serve Allora L'avevano messo Per Poter Provare A vedere Se riuscivano A Avere Degli Degli Umanoidi Metà DNA Di Stefania E metà Aliena In alcune Abduction Che lei Ha subito Entro i 18 anni Hanno provato Qualche volta Non le hanno Più fatte Però L'hanno lasciato Lì Come se Potesse tornare utile Quante sono le abduction Di Stefania In totale In totale Ce ne sono delle altre In totale 150 Fino ad oggi Ok Chiamiamo le altre Interferenze Le altre entità Oltre al falcone Di forma Ok Sia in su Che in giù Ok Allora In giù Ci sono Tre soldati 4 e dl E due rettili In su Abbiamo In su Io vedo solo Lucas Come si chiama Il progetto Che titolo Hai il progetto Di Stefania Relativa a Stefania Diamond Perché Perché Attraverso questa tecnologia Volevano cercare di riprodurre Esattamente L'energia Che noi umani Traiamo Dal diamante Ci sono riusciti No Ne hanno presa un po' Di queste Anima di Stefania Asma si è esaurita No 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 Allora Ne hanno presa un po' Un bel po' Un po' Si è ricreata Negli anni Perché hanno smesso Quando aveva 18 anni No certo In Stefania Si ricrea E ci sono problemi Ma quello che loro prelevano Come Come energia Di anima Come Come viene sfruttata Allora In quel caso lì Non sono riusciti A conservarla Allora Praticamente La estraevano Dalle orecchie Di Stefania E la Si arrivano In queste specie Di provette Giganti A forma Di gocce Però è come Se Svanisse Pian piano È come se Allora Prima pensavano Che era Perché Prendeva luce Poi hanno provato A metterla al buio Ma svaniva comunque Ci metteva un bel po' Perché Durava anche anni Anche 3 o 4 anni Prima di svanire Completamente Però Poi si accorgono Ma quando si stacca Dell'energia di anima Da una persona Si L'energia cambia Visto che Allora Quello che io vedo È Sì Allora All'interno della persona La vedo Come se fosse Una gelatina Viola Ok Che fa Tipo Una sfera Che però Si muove Però Come se fosse Una sfera All'interno Quando viene Ciucciata Proprio Diventa Come se fosse Una polvere Bianca Quindi cambia Una sorta di stato Siamo chiaramente Parlando così In termini Simbolici No Certo Vediamo se La similitudine Può funzionare Come se L'anima di Stefania Di tutti Quelli che ce l'hanno Fosse un giacimento Di benzina Infinito Sì Quando si estrae Un bicchiere Di questa benzina E si butta Su un tavolo La benzina Inizia ad evaporare Sì Esatto È calzato È come se Evaporasse la parte liquida Facciamo finta E rimane Tipo Esatto Un residuo Che però Poi svanisce Perché senza La parte liquida Non può esistere Ecco Che cos'è La parte liquida Come la definiresti Come ti Cosa ti arriva Se ti faccio Queste domande La parte liquida È proprio L'essenza Lettere Secondo me È tutto Quello Che c'è A livello Umano C'è È fatta Così Perché Nell'umano Sì Diciamo Che lettere Questa forma È il chi Sostanzialmente Eh sì Ok Si potrebbe Corrispondere Va bene Quindi Il perché Nel Nel 92 Beh In realtà Sì No Nel 92 Perché Nel 92 È perché È stato Attivato Lì Il contratto Sì C'è una Con relazione Tra il cambio Di casa Nell 86 Dove Nel Presse Della quale C'è Un pennone Di alta Tensione E un pozzo D'acqua Nella casa Che può essere Può fungere Da Conduttore Ma potrebbe Potrebbe essere Che magari Che magari Hanno scelto Quella casa In quel posto Lì Con il pozzo E l'energia Come punto Favorevole All'estrazione Dell'energia Di anima Ecco Lo vedo Come Cioè loro Sono sempre lì Chiunque venga Provano a sperimentare Queste cose Diciamo che c'è Una causa esoterica E questo è il contratto Sì esatto E poi una causa Anche Fisica Che lo supporta Sì esatto Ve lo facilita La casa Quindi il pennone Cioè l'alta Attenzione C'entra Con la sordità Aiuta Aiuta Assolutamente Qua Di uva Il Il Si facilita Assolutamente Sì Per questo motivo Non so Faccio un esempio Una persona L'acufene Cioè chiaramente Una causa fisica Non so Troppo forte La musica Da ragazzo E poi c'è una causa Esoterica E quello può essere Il trauma Diciamo che Anche Che ci sta lì E si passa Le giornate Lì insomma Togliendo Una causa Esoterica Può passare L'elemento Fisico Sì Stoicendo E guarendo A livello fisico Può Indebolire La causa Esoterica O Adirittura Eliminata Quindi Tutte le cose Vengono Viste Da un'angolazione E sono Corrette L'importante E non ignorare Come fanno tutti L'esistenza Anche di una causa Esoterica Che c'è sempre Esatto C'è sempre Nel senso Nel momento In cui c'è Una qualche cosa Di qualsiasi tipo Che altera Tra virgolette Un po' L'equilibrio Della persona Posso dire Così Non so È come se Si aprisse Un canale Per far sì Che La parte Esoterica Possa liberamente Iniziare A interagire Interferire Questa è una cosa Che sembra banale Ma in realtà È molto importante Il gioco In cui siamo Immersi Funziona In questo modo Se c'è Una causa Fisica C'è anche Una causa Esoterica Assolutamente Contemporaneamente Non c'è Una più Importante Dell'altra No Devono esserci Tutte e due Per poter Essere così Ecco Ok Gli impianti L'abbiamo visti L'entità L'abbiamo viste Il nome Del progetto L'abbiamo visto Causa Esoterica Di disamore Per se stessa È più Un'interferenza Mentale La vedo Proprio Un'interferenza Mentale Che deriva Dallo schema Familiare Che l'è stato Imposto Assolutamente Allora Questa Interferenza Mentale È uno Degli argomenti Che mi interessa Di più In assoluto Un'ipnosi Esoterica Infinitum Perché questo È il next level Qui È dove bisogna Andare a battere Ti faccio Una domanda Sola Unica Semplice E diretta Esistono Entità Mentali Allora Io Vedo Nel momento In cui Tu me l'hai Detto Visto Come se Fossero Entità Che hanno Hanno La forma Tipo Di Scosse Elettriche Molto Bene Chiamale Ok Si è presentato Proprio Una forma Umanoide Però Fatta Di Elettricità Tipo Fulmini Elettrici Come Fatta Come Fulmini O Ha Una forma Umanoide Ha Una forma Di Umano Ma Come se Fosse Disegnata Da queste Piccole Scosse Che Si Muovono Sì Sì Questo Come si Chiama Mi sta Confondendo Non lo vuole Tanto Dire La senti Come Un'entità Diversa Dalle Entità Solide Eteriche Allontanati Alza La frequenza Ok È Obbligato A risponderti Con Il suo Nome Dare Ok Domanda Darvin Esiste Solo Per Stefania O Darwin È Un'entità Mentale Nel Corpo Mentale Nella Mente Collettiva A cui Qualcuno Si Connette Per Ese Stefania E Qualcun Altro No Perché Decide Di Non Connettersi Cioè Le Entità Mentali Questa Una Mia Idea Una Mia Idea Ma Di Colpo Di Genio Che Mi È Venuto L'altro Giorno Io Credo Che Ci Siano Queste Entità Mentali Che Differentemente Dalle Entità Eteriche Siano Il Corpo Mentale Sono Lì 23 45 10 20 Tipi Poi Arrivato Anche Un bel Flash A skype E Le Persone Che Hanno Delle Interferenza A livello Mentale È Il Mentale Le Malattie Mentali Per Esempio Si Connettono A uno Di Questi Dieci Personaggi Facciamo Finta Quanto Di Quello Che Ho Detto Corrisponde A Quello Che Vedi Quello Che Io Vedo E Allora C'è Lui Che È Tipo Al Terzo Livello Su Dieci Ecco Quello Di Stefania È Tipo Tre Su Dieci Come Livello Ce Ne Sono Due Livelli Sotto Che Sono Quelli Che Lui Controlla Che Hanno Delle Influenze Molto Piccole Tipo I Piccoli Pensieri Ricorrenti Ok Invece Da Otto Nove Dieci Sono Proprio Quelli Che Riescono A Controllare Completamente La Mente Della Persona Da Fagli Addirittura Da Fagli Fare Cose Che Se Fossero Se Non Fossero Interferiti Mentalmente Non Farebbero Proprio Esempio Il Pazzo Più Pazzo Che C'è Al Dieci Esattamente Quindi L'uno È Basso Il Dieci Alto Sono Dieci Quindi Questi Personaggi Dieci Livelli Dieci Livelli Direi Al Decimo Mi Sembra Ce ne Siano Cinque Sei Come Sono Fatti Quelli Del Decimo Hanno Più O Menor La Stessa Struttura Ma Sono Più Come Se Fossero Più Fermi Le Scosse Più Delineate Più Regolari Più 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 C'è Come se Rappresentassimo Tipo I Meridiani Sono Nella Mente Collettiva Sono Nella Mente Collettiva Soprattutto Agiscono A livello Collettivo Ok Domanda Così Tamblet Non solo Quale Livello Dei Dieci Lo Collocheresti La Disposofobia Dove La Collochi 6 Come Fatto Il Sesto Livello Allora Sesto Livello Vedo Questi Questi Qua Ti Direi Sono Una Sessantina Come Se Si Tengono Per Mano Per Poter Continuare Il Loro Progetto A Livello Collettivo E E Hanno Queste Come se fosse Lo scheletro Umano Però Fatto Di Tubi Tubi Elettrici Vedo Questi Tubi Dove Passa L'informazione Che Sono Tipo Tubi Illuminati Che Li Posso Descrivere Così C'è Solo La Disposofobia A Questo Sesto Livello No C'è Allora Mi è venuta Dislessia Non So Mi è Arrivato Così Claustrofobia Molto Bene Ce ne sono Tante Altre C'è L'inizio Della Della Schizofrenia Ma Proprio Se i primi Step Partono Da lì Questa È Una Sessione Epica Cosa Fa Lucas Di Fronto A Quest' Analisi Allora Lo vedo Come se Dovesse Rimettere a posto I suoi burattini Quindi Fa una disposizione Diversa Rispetto Al solito Se torno Indietro Un pochino Sulla linea Del tempo Dove siamo Tipo Qualche minuto Fa È come se Lui fosse Seduto A godersi Lo spettacolo Adesso è come se Si fosse Alzato In piedi E rimette A posto I burattini Perché È come se Avessimo scoperto Una cosa Che lui Era molto Funzionale Perché I burattini Delle entità Mentali Sì esatto Non le entità Normali No no certo Bene Su questo argomento Lavoreremo Da adesso in poi In maniera Bene Darwin Terzo livello Disamore per se stessa Stefania Stefania ora Come parte Sulla Nelle De Tere Stessa domanda Sulla sua Sensazione Di non Essere sufficientemente Femminile Non amare Trucchi Smalti Abbigliamenti Femminili Puro Essendo donna Avendo La propria Femminilità Più che Definita Sempre Darwin Ok Tendenza A lasciare Abbandonare Le relazioni Con distacco Quasi Freddezza Allora Eh Eh Allora Ti direi Allora Sempre Darwin Ma Qua È come se Mandasse All'opera Due Entità Mentali Così Vuole chiamare Così Due Del secondo Livello E una Del primo Che sono Quelle Che agiscono Proprio Sai tipo Li vedo Quasi Che spostano I neuroni Da una parte All'altra Per cambiare Le connessioni I dieci Livelli Di identità Mentali Sono Nel Mente Collettiva Sì Sì Assolutamente Funzionano Sì Assolutamente Va bene Causa esoterica Della Laparotomia Del 2014 Realizzata In seguito A un problema Diciamo Sul lavoro E che Non ha portato A nulla Se non A un Intervento Chirurgico Molto Invasivo E molto Impattante Su tutti I livelli Anche Psicologico Non soltanto Fisico Di Stavania Sì Qua Vedo Una cosa Tra un po Particolare Dal solito Nel senso Che lei Arrivata Al lavoro Serenissima Tranquillissima Ha avuto Questo shock Diciamo Tra virgolette Shock Nel senso Che era Già bassa Di energia Gli hanno Dato Questo Gran peso Lei si è Un po Squilibrata A livello Energetico Un'entità Che però Era un amantide Allora Ma non c'è più Ha preso L'occasione Per inserirle Questo impianto Questo grosso Impianto A livello Dell'intestino Che Le ha Provocato Questa reazione Di forti dolori Quando hanno fatto L'intervento Per assurdo L'hanno liberata Da questa cosa E quindi Dopo l'intervento È andato Piano piano Scemando Si è tolto Il L'impianto Serviva Quello Probabilmente Probabilmente Sì Perché Da un'operazione Non si toglie Un impianto No 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 Esatto Però Dopo l'operazione L'impianto Non c'era più Va bene C'è una ps Quindi Dopo le varie Abduction Cercano di prenderla Quindi Esistono C'è una scarsa Comunicazione Tra lei E la ps Allora Le sue Interferenze mentali Darwin Principalmente Con quelli sotto Di lui Quei tre Sotto di lui Sono sempre Riusciti Fino ad oggi A farle fare L'opposto Di quello Che la ps Le diceva Di fare Quindi Ecco Un po' Come quando Lei dice Faccio cose Ma che non Voglio Di fare Esatto È come se Il messaggio Della ps Gli arrivasse Mi fosse Sempre arrivato Poi interveniva Darwin E lei Faceva L'opposto Quindi Lei ha fatto L'esempio Voglio andare Al mare In vacanza Quest'anno Ma le circostanze Mi portano Ad andare in montagna Io accetto Quindi la ps Le dice Deve andare al mare Perché lì ci sarà Tutto un discorso Di connessione Che ne so E darwin Entità mentale Fa in modo Che lei vada In montagna Esatto Ovviamente Non vogliamo Male alla montagna E bene al mare Ma soltanto Come se Va bene Causa esoterica Del fatto Che non riesce A cambiare Un lavoro Che non le piace Di fatto Allora Vedo qualcosa Proprio sul posto Di lavoro Non riesco bene A capire C'è un soggetto Che è come se La ipnotizzasse Tutte le volte Che la guarda Uno dei suoi capi Che tutte le volte Che Stefania Incrocia il suo sguardo La ipnotizza E È come se La convincesse Che non può far altro Che quel lavoro Lì Quindi E lei lo traduce Con posso fare Solo la dipendente Perché un pochino Si sta aprendo L'idea Di cambiare lavoro Quindi quello Che le rimane È Io posso fare Solo la dipendente Ok Questo capo È interferito Da qualcuno Da qualche Entità Che ha E che è Un accordo Con quelle Che abbiamo Visto Di Stefania No no È proprio Solo per il suo Scopo Non c'è Una collaborazione In questo caso Quindi No no A volte c'è Sì No E qual è la causa esoterica Del fatto che lei Rissuona con le piante E quindi vorrebbe Un impiego In questo ambito Allora È una memoria Di una vita passata Parallela Passata Dove Lei ha già fatto Questo lavoro E lo faceva Molto bene In quella vita lì Le ha permesso Di vivere bene Nel senso Era una delle cose Che hanno fatto sì Che lei potesse Continuare a vivere Nell'abbondanza Perché le riusciva Proprio bene Quindi era molto Ricercata Potrei Era una donna Sì Era una donna La vedo In mezzo ai campi Proprio Che Richiesta Potrebbe essere Fine Settecento Inizio Ottocento Ma Richiesta Per cosa Perché Per la sua Cioè Nell'ambito agricolo Sì Esatto Quindi Nel gestire Non so Le sementi Esattamente Comprendere L'esatto Momento Della semina Esatto Della raccolta Ma era una biologa O era una Contadina Considerata Una sensitiva Una saggia Può essere Saggia Sì È come se Avessero visto Allora Io la vedo Come se fosse Migrata Negli Stati Uniti Quando In quel momento In cui Regalavano le terre Lei Dalla piccola terra Che gli è stata regalata È riuscita a fare Delle grandi cose A livello Agricolo Soprattutto Per quanto riguarda Le piante Quindi appunto Riusciva a Farle proliferare In maniera Un po' Anomala Come si chiama Lei In questa vita Nensi Qual è la causa esoterica Della Del dialogo Con le piante Sia di Nensi Che chiaramente Anche di Stefani Che poi è un po' Il pollice verde Il concetto Il discorso Dei pollice verde Esattamente Perché alcuni Rissuonano Col mondo vegetale Altri Allora 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 in quella vita lì Però anche in questo Adesso ho visto Che è la stessa cosa Aveva una È come se avesse una parte Di DNA vegetale Che è proprio quella parte Che fa sì che loro proliferano Ce l'hanno in comune Quindi vibra Alla stessa frequenza Questo fa sì che Stefania e Nensi Siano in grado Di farlo automaticamente Come se DNA eterico vegetale Però E' il ricco di Stefania Deve essere umano Che percentuale c'è Di vegetale Ma più Chissimo E' proprio Solo quella parte lì Mi viene due Per cento Ok Infine Parliamo di Gabriele Contatto telefonico Casuale Incontro dal vivo Una sola volta E' elementi Per definire Che sia Una sua La sua fiamma È così Allora Io vedo che Allora Io vedo che c'è Questo guardiano del tempo Che ha fatto in modo Di creare questa telefonata Per far sì che lui Si agganciasse ad Elena Quindi Elena Ha accettato Di essere agganciata Perché il guardiano del tempo Vuole che lui Si stacchi Da quella situazione In cui si trova ora E a Elena Rissuona Ha accettato Guardiano del tempo Cosa intendi Uomo del tempo Sì scusa Questo uomo del tempo Vuole che questi due Si incontri Ha fatto in modo Che Loro due Si incontrassero Il suo scopo Di questo uomo del tempo È che Gabriele Si stacchi Dalla situazione In cui si trova ora Ok No strano Perché di solito L'uomo del tempo Non favorisce L'incontro Tra due persone Con il sospetto Che siano fiamme Sono fiamme Quindi no No Io quella cosa lì Non la vedi Io la vedo Proprio come uno strumento Che lui ha usato Temporaneamente Per far sì Che lui si staccasse A che scopo Perché di là È troppo forte Viene Allora Non analizzava dal punto di vista Di Gabriele Analizzava dal punto di vista Di Stefania Semplicemente È la sua fiamma No Io non la vedo Come la sua fiamma Questo incontro Ha creato In Gabriele Quello che non ci importa Ma in Stefania Ha creato confusione In Stefania Ha creato confusione Perché È riuscito ad attivarle Delle cose energetiche Che lei non ha mai sentito prima Ok Che si sposa Con il lavoro Di Vita sentimentale Non so come definirla Però Finire una relazione Anche importante Con distacco Certo Non porta Ad avere un'idea Di se stessi Di vita sentimentale Proprio Elevato È una fronte Sul quale Stefania sente Di dover lavorare Quindi c'è una coincidenza Tra il lavoro di Darwin E questo uomo Esatto Sì 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 Infatti Ok Esatto Lei era Grazie a Darwin Lei a livello energetico Si abbassa Rispetto a questa cosa Riesce a abbassare La sua frequenza E Per l'uomo del tempo È stata Molto utile Molto Efficace Ad agganciare Elena Perché è in una frequenza Facile per lui Da gestire Va bene Dov'è la fiamma Di Stefania Se è incarnata Ovviamente Sì 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 La vedo In questo momento Tipo Nello Sud ovest Della Spagna Ok Verso il Portogallo Verso il Costello Di Gbiterra Sì Un pochino prima Ancora a Spagna Però lì Sì È un uomo spagnolo Sì Come si chiama? Salvador Ok Siccome la parte subliminale È la stessa Sente Quello che sta succedendo Sente In questo momento È come se fosse elettrizzato Alle persone intorno Appare Un po' agitato Però Sorridente Allego Va bene Chiamiamo Il padre Di Stefania È arrivato subito Come se fosse Come se fosse Scorso Su Un binario Non si avesse Dove Come un treno Sì Sì Esatto Come un Cesto Del cardobone Nelle miniere Di carbone Uguale Ok Come lo vedi Eh Lo vedo Come è lui Lo vedo Che è lui Lo vedo Proprio lui In piedi Appunto come se fosse Se avesse due pattini Uniti a questo binario E dice E mi dice Per Stefania Sono disposta a fare Tutto quello che è necessario Noi non siamo qua Non l'abbiamo chiamato Per aiutare Stefania Ma per aiutare se stesso Certo Quindi gli offriamo Un bel diamante Nel quale dentro Ci sono tutte le informazioni Delle mie sessioni E vediamo se lo accetta E cosa ne fa Allora è un po' Titubante Come per dire Ma io Come si dicesse Non mi merito niente Nessun regalo Non è un regalo Sono solo informazioni Infatti poi Che adesso l'ha preso Nelle mani E sta guardando No No Come se Volesse vedere Cosa c'è dentro Ma gli ho suggerito Di aprirlo Che si può aprire L'ha fatto Ok I diamanti Sono i migliori amici Delle donne Ma anche degli uomini Quindi se vuole Può assorbire Questa informazione Che è solo informazione Non è interferenza Non è Un'idea Di come Sono le cose E solo informazione Uno può accettarla Metterela in discussione Non accettarla Accettarla tutta Accettarla in parte In ogni caso Sono informazioni Che lui non avrà mai L'occasione di avere In nessun altro momento Se non in questo No Le sta assorbendo Tutte Proprio a livello Vedo che entrano Proprio come un flusso Nel suo cervello Il padre di Stefania È collegato Alla terra Ah sì Dove Anch'io La cosa Vive nel giardino Della casa Dove vive La mamma di Stefania Dove si attacca Come se lo vedessi Sempre su Un asdraio di legno In mezzo al giardino Esistente davvero Eterica Ma no Mi sembra Eterica Ok Quindi è attaccato Anche alla moglie Sì Sì A tutti Anche al fratello Di Stefania Anche al suo fratello Di lui Vedo Lo inviteremo Fra poco Ad andare Attraverso un portale E a staccarsi Da tutto Quello che è terreno Ma questa è l'occasione Finale Per dire Qualunque cosa Voglia dire A sua figlia Se vuole Mi dice Stefania Sei perfetta così Basta Ok Vediamo se fa tutto da solo Si stacca Allora Ha aperto il portale E vedo tipo un grosso Tipo mare Molto esteso E un surf Che lo aspetta lì L'ha aperto lui È un po' titubante Ad andare Un po' indeciso Prima di andare Si stacchi dal giardino Dalla moglie Eventualmente da Stefania Eventualmente da oggetti Anche vegetali Per esempio In questo caso Presenti Nel posto a cui è attaccato La casa Le persone Da tutto Sia per non interferire Luoghi Persone Cose Animali Vegetali Sia Per essere Veramente Libero Di andare A surfare In questo caso Ok Sì 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 Ok Si è stacca È andato Sì 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 Si è proprio Staccato da tutto È andato È già Di là Perfetto Ho sentato E allora Avviamoci Verso le fasi Finali Prima però Dimmi Elena Solo Cosa facevano Cosa fanno I 4 dl Come agiscono Su Stefania Allora Tre Girano Intorno Girano Intorno E Come se Si assicurassero Che Lei è sempre Lì disponibile Ad accettare Un loro ricatto Tra virgolette Però Non fanno niente In questo momento Sono un po' neutri Come se controllasse La situazione Quello che ha in cima Sulla testa Crea come Delle piccole scosse Che vanno Su tutto Il corpo Su tutta La Diciamo La parte esteriore Del corpo Di Stefania Fino ai piedi È come se Creassero Uno scudo Per Per Mantenere Il lavoro Che fanno Loro Che fanno Per Non fare Per impedire A Stefania Di Capire Che ci sono Delle Entità Esterne Che Interviscono Con lei Ok Esiste una collaborazione Tra le entità mentali E gli edl Sì Di che tipo Ecco questo Gli edl Controllano Che lei Non si accorga Cioè mantengono Proprio La Se dovessimo Semplificare Con il braccio La mente I edl Sono il braccio E le entità mentali Sono la mente Sì esatto Cioè chi comanda Sono le entità mentali I edl Su 4 Sciamannati Sì esattamente Altra Interessantissima Teoria Che valuteremo Poi nelle prossime Sessioni Bene Diamo queste informazioni Di tutte le sessioni Fatte Di questa attuale Che vabbè Inevitabile Stefania La sta vedendo Quindi le ha A Stefania Lei può ora Andare al cluster Non soltanto Modificare Annullare Quel famoso Contratto Relativo alla solidità Che lei ha sottoscritto Sull'iniziativa del padre Ma lei Ha accettato Ma può Eliminare tutti I contratti Di tutte le sue vite Precedenti Il proposito Quanti sono Quante sono 793 Ok Vediamo cosa fa Ha proprio fatto Una pulita Tu dicevi Di andare al cluster La vedevo già Proprio là Che ha fatto È proprio Sono tante pile Di documenti Proprio Di fogli E ha fatto Proprio un movimento Con il braccio E le ha spazzate via Ok Invece di spazzarle via Le deve proprio Mettere dentro Un portale definitivo In modo che Non siano solo Spostate Ma che siano Proprio Eliminate Come forma energetica In un contenitore Un portale Un contenitore Che le scompone Energeticamente Sempre di più Sempre di più Sempre di più Sempre più Nel piccolo All'infinito L'energia La stessa Ma innocua In basica Ridotta Alla base Gli amminoacidi Le proteine È ridotta Ad amminoacidi Ok Non ti sento Mi senti La messi Questi contratti Sì Come apparivano Questi contratti Che non ho capito Come libri Quaderni Fogli Fogli Pile di fogli Messe In contenitori O libere Così No libere Su un piano Ok Si vuole eliminare Anche il piano Lo può fare Ok Perfetto Chiaramente Questo che stiamo facendo È a disposizione Di tutti quelli Che guarderanno Il video Ma anche In eterico Al fratello La madre E il padre Che non possiamo invitare Il padre L'abbiamo già fatto Quindi fratello E madre Che non possiamo invitare Esplicitamente Anche perché Però in eterico Lo possiamo fare Ok Ok Con questa sola Semplice condizione Cosa è cambiato Dell'impianto Interferente Di Stefania Se è cambiato qualcosa Non ci so più Nulla I due impianti Quelli Nelle orecchie Non ci sono più Ok Gli altri impianti Gli altri Ci sono ancora Ok Le interferenze Eteriche Allora C'è solo C'è L'umanoide Con le ali C'è ancora Lucas lì Che cerca Di sistemare Le sue interferenze Mentali Quindi c'è ancora Darwin Che però Vabbè Si Darwin È un po' Spiazzato Perché Gli edl Sono andati via Insieme agli impianti Però Non ne vedo più Ok Andiamo all'avatar Vediamo se Concludendo il lavoro Si elimina Tutto quello Che è rimasto Dimmi come Vedi L'avatar Di Stefania Il fantoccio La postazione Lo schermo Morata Se Vedo la postazione Proprio una scrivania Con lo schermo Vedo la forma Vedo come se fosse Un omino Di legno Il manichino Dei modelli Sì Tipo da farci Anche da Fu Da Sare Sì Sì Ma lo vedo Un po' Arreso Nel senso Complici Ok Tanto so Che non c'è più niente Da fare Ok Portare Definitivo E via Di farlo Lei ovviamente Se Questi C'erano C'erano Gietta Proprio tutto Dentro Tutta la postazione Lui Interi Dentro E ha Chiuso Benissimo Esistono Ancora I militari Gli DL I rettiliani L'uccello Riforme Lucas Per Stefania Ovviamente No Il progetto Diamond E Le 150 Blackson Total Andati Tutti Ok L'entità Mentale Disconnessa Darwin Disconnessa Da Stefania O non esiste Più Non esiste Più Per Stefania Per Stefania Non ha Sì Per Stefania Ok Però esiste Per altri Si cambia Nome Come se Cambiasse Nome Non so Tutti quelli Che hanno Disamore Per sé Hanno Questo Darwin Diciamo Però Si chiama Darwin Per Stefania Ma si chiamava Qualcun altro Molto interessante Cosa fa Lucas Che non è più Connesso A Stefania Ma esiste Ancora Eh L'hai Disperato Con Burattino Vedo Proprio Come se Dovesse Cambiare Burattino E non Trova Una Sequenza In questo Momento E come se Dovesse Ristudiare Tutto Senza Stefania Come se Fosse Tutto Un Equilibrio Ok Come le Particelle Come i Quanti Che Se ne Sposti Uno Deve Deve Riregolarsi Tutto L'equilibrio Come se Fosse Lì Al Lavoro A Fare Questa Cosa La Vita Di Nancy Esiste Ancora No 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 Allora Le Vite Che Vedo Io Ora Sono 350 Ed Andate Ok Però Il dna Di Stefania Lo Vedo Uguale Ok A quanto Vibra Stefania Adesso 750 Mila Ok A quanto Vibrava All'inizio 350 Mila PS PS Sono In Equilibrio 46 PS E 54 Piede Renderanno Un equilibrio Nei prossimi Giorni Sì 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 Vedo Tipo Sì PS Va Anche 51 Benissimo Prima Di Chiedere Alla PS E La Piede Stefania Di Lasciare Un Messaggio A Stefania Scriviamo Anzi Scrivo Io Su Un Foglio Di Carta Vi Abbiamo Scoperto E Ora Sono Cazzi Vostri E Questo Foglio Lo Metto Nel Corpo Mentale Nella Mente Collettiva È Un Messaggio Per Le Entità Mentali È Una Dichiarazione Di Guerra Ok Visto Che Il Corpo Mentale È L'elemento Su Cui Nessuno Ancora Lavorato In Siamo Lavorare Come Ti vedo Proprio Che hai messo Più Fogli Sparsi Come Sai I fogli Wanted Ecco Così Che cosa Causa Queste Foglia È Sotto Un Po Stupiti Una Cosa Nuova Vibra Come Se Sentissero Una Vibrazione Nuova Una Frequenza Vibratoria Nuova Che Rispilibra Un Attimo Messaggio Finale A Stefania Di PSP E Congiunta Noi Fluiamo Come Un Fiume Lascia andare Sia Quando È In Piena Che Quando È In Secca Ogni Goccia Fa Parte Della Nostra Fluidità Ok Basta Lei Come La Vedi Adesso La Vedo Senza Mantello La Vedo In tenuta Estiva Con Tipo Di Bermuda E Una Canotta E In Frannito Sta Per Andare In Spiaggia Come Vedi La PS Come Fatta Come La Visualizzi La Su La Sua Allora Prima Era Come Se Fosse Una Rana Prima Era Come Se Fosse Una Rana Che Cercava Di Saltare Ma Come Se Faceva L'inizio Del Salto Poi Dove Tornare Indietro Ora Invece La Vedo Come La Vedo Come Una Signora Su Una Sedia Presente Tipo Quella Dei Registi Con Un Cappello Di Paglia Molto Largo Quelli Estivi Da Donna Con Il Cartello Chuck Che È Pronta Per Fare Chuck Si Gira L'inizio Di Nuovo Film C'è Un Futuro Con Le Piante Con Queste Nuove Condizioni Per Stefania Io Lo Vedo Il Futuro Lo Vedo Libero Da Quel Condizionamento Di Quella Vita La Però Come Dicevo Prima Il Suo DNA Lo Vedo Ancora Con Il 2 Per Cento Come Se La Memoria Fosse Stata Comunque Lasciata Della PS Ma Vapesse Solo Cancellato La Vita Di Nancy Quindi Ecco Questo 2% Ndna Vile Lo Vedo Ancora La Parate Subliminale È D'accordo Nel Lasciare Questo 2% Sì Ok Questo Basta Va Bene Allora Elena Disconnetti Da Tutto E Tutti Io Arresto La Registra